Svizzera Durante la primavera 2017 in tutta la Svizzera era possibile provare il Samsung Galaxy S8. Ma solo Swisscom consentiva anche di sperimentarlo. Ciao, vorresti testare le specifiche del Samsung Galaxy S8 laddove le utilizzi davvero? Che ne diresti di una piccola avventura? Altrimenti esci subito. Chi rimane può comunque rinunciare anche più tardi. Guarda nel cassetto davanti a te. Capirai subito cosa fare. Vediamo come il Samsung Galaxy S8 si comporta. In acqua Abbastanza resistente all'acqua per tenere testa alle sirene. Nettuno è soddisfatto. Passiamo al livello superiore. Pronti per la caduta libera? Godiamoci il tramonto un po' più da vicino. Condizioni perfette per testare la camera low light. La mia amistanza improvements all'acqua per tenere testa alle persone sempre più tardi. Sono come frea, ma non mi piace, non so più, non so più. Grande, il Samsung Galaxy S8 è tuo.